Salve gente! Uno degli interrogativi che l'aspirante autore si pone più spesso riguarda il tipo di piattaforma da utilizzare per parlare di sé. Mi chiedete spesso infatti, ma ha senso che io mi faccia un sito? Oppure sarebbe meglio un blog? O magari sarebbe bene utilizzare solo i social? Ecco, partiamo dal presupposto che io non sono una esperta di marketing, non ho studiato questo nella vita, però sia per la mia attività, sia perché seguo molti autori, ho visto un po' lì fuori come funzionano le cose. In effetti ha senso oggi riconoscere che il sito web in quanto tale sta perdendo un po' di interesse per il pubblico. Diciamo che magari quelli che oggi sono più giovani, hanno 13-14 anni, non vanno più molto sui siti, ma più che altro sono sui social. Il tipo di contenuto che viene apprezzato di più oggi è quello più veloce, molto visivo, interattivo, quindi magari un video, un audio, infatti i podcast vanno tantissimo. Qualcosa da poter lasciare in sottofondo mentre facciamo altro, insomma oggi siamo tutti un po' isterici e quindi abbiamo bisogno di stimoli diversi da un semplice muro di testo. E se dobbiamo guardare al futuro sicuramente dovremmo chiederci cosa dovremmo fare. Allora, a mio parere, il sito, anche se magari tra dieci anni non li useremo più, chi lo sa, oggi è ancora indispensabile. Che voi siate degli editor freelance o degli scrittori che vogliono far parlare delle loro opere, avere un sito personale serve. Diciamo che la differenza magari la fa cosa ci mettiamo in questo sito, quindi come lo gestiamo. Riempirlo infatti di pagine solo testuali dove raccontiamo la nostra bella vita, le nostre belle cose, sì, probabilmente risulterà inutile e noioso. Io lo vedo più come contenitore, come aggregatore di tutti i luoghi in cui agiamo sulla rete. Ognuno di noi è presente su un sacco di social diversi, abbiamo YouTube, Instagram, Twitter, Facebook e chi più ne ha più ne metta. E l'idea di comunicare a qualcuno dove trovarci quando siamo su tante piattaforme diverse è molto caotica, no? Potremmo mettersi a fare l'elenco, magari abbiamo pure nick diversi, quindi bisogna andare a cercare come ci chiamiamo su Instagram, come ci chiamiamo su Twitter, eccetera, eccetera. È difficile, invece, se abbiamo un punto a cui indirizzare le persone dove poi troveranno tutti i link, tutti i diversi account, è più facile. Quindi il sito io oggi lo vedo più come vetrina, come presentazione di quello che facciamo, con sicuramente una pagina di biografia, se siamo autori, una pagina in cui elenchiamo le nostre pubblicazioni, ma che abbia il primo scopo proprio di rimandare all'esterno. Questa è una mia visione, non tutti fanno così, non funziona solo questo nel mondo, come sempre vi dico, cioè le eccezioni ci sono, per carità. Però questo è un po' quello che vedo io da persona che guarda dall'esterno, no? Se io vado a cercare informazioni su un autore, cerco su Google il suo sito e prima di andare su Instagram, eccetera, passo da lì, per vedere se c'è l'elenco dei libri, per vedere dove è presente, insomma, è utile. Un'altra classica domanda riguarda il blog, cioè gli autori mi chiedono, ma vale la pena che io mi faccia un blog oppure no? Il blog è qualcosa che se scegliamo di fare dobbiamo curare, dobbiamo curare in maniera più o meno regolare, non siamo obbligati a una scadenza ben precisa, però è chiaro che se diciamo di avere un blog, ma poi lo aggiorniamo una volta all'anno, non serve a niente, nessuno si abituerà a andarlo a cercare. Quindi richiede cura e attenzione, come tutti gli altri mezzi di comunicazione, e soprattutto costanza. Bisogna dire che oggi come oggi il mezzo del blog comincia ad essere veramente vecchiotto. Non voglio essere ammazzata da chi è ancora un amante di queste cose, diciamo che, per esempio, è successo lo stesso con i forum, oggi ce ne sono pochissimi che sono effettivamente frequentati. Alcuni resistono, per carità, però sono quelli pieni di persone appassionate fin da prima. E io sto vedendo un po' la stessa dinamica con i blog. Ne esistono ancora, ne esistono di seguiti magari, ma sono quelli che andavano già da prima, quindi se ne avete uno già avviato, ma per carità, continuate finché la barca va. Però se dovete avviarne uno oggi, non lo so, non è esattamente la cosa migliore, secondo me. Potete investire le vostre energie, il vostro impegno in qualcos'altro. Un esempio che vi farebbe un esperto di marketing è la newsletter. Vi confesso che io non sono una grande fan delle newsletter. Mi sono iscritta a diverse newsletter molto carine e molto interessanti, ma non le ho mai lette nella mia vita, perché poi vanno lì, in mezzo alla posta, che è già troppa, finiscono nello spam, quindi di mio, cioè io non ne ho mai fatta una, per esempio, perché non leggendole non mi vedo in questo, cioè non mi rivedo in questo mezzo di comunicazione. È un problema mio. Però un po' tutti sostengono che le newsletter oggi siano fondamentali e che c'è una sorta di rinascita. Dunque su questo, se vi devo dire la mia opinione personale, secondo me è una sorta di blog per corrispondenza, ecco. Cioè in fondo ormai tutti le utilizzano per scrivere dei post veri e propri, degli articoli anche lunghi, che magari sono meravigliosi, ma che ti arrivano via mail e continuo a dire, boh, io ricevo già abbastanza notifiche così e non le vedo, non le apro, non so. Ma per molti questo mezzo funziona, quindi se proprio volete scrivere degli articoli lunghi, questa potrebbe essere un'idea. Anche qui servirà che siate regolari, però, quindi non si invia una newsletter all'anno, ma scandite, cioè decidete delle scadenze e poi vedete di rispettarle. Se saltate una volta non fa niente, però insomma dovete creare una qualche parvenza di regolarità. C'è chi sostiene infatti che mentre i social sono un po' ballerini, perché lo vediamo, ne nascono di nuovi, muoiono quelli di prima, oggi tutti hanno abbandonato Facebook, per esempio ci sono solo gli anziani ormai su Facebook, mentre stanno andando tutti su TikTok, cioè abbiamo questo movimento dove in mezzo c'è Instagram che ancora resiste, ma chissà che fine farà, però magari prima o poi se ne andranno tutti anche da Instagram e quindi la gente dice se tu hai una newsletter e quindi una lista di indirizzi da poter contattare, potrai spostarti dove ti pare, perché rimanderai sempre al luogo in cui sei poi. Mentre se domani chiude YouTube, per esempio, io voi non so più come pigliarvi, cioè questo è il senso della newsletter, diciamo. Poi io a questo risponderei che basta googlare un attimo, però effettivamente questo implica uno sforzo attivo e sappiamo che gli utenti in genere non lo fanno. Per quanto riguarda i social, anche qui ho qualcosa da dire, cioè è inutile tentare di essere su 57 piattaforme diverse, è chiaro che non potrete mai aggiornarle tutte in maniera regolare, non potete averle tutte. Ci sono alcuni che ne utilizzano alcune solo per rimandare alle altre, per esempio io ho un account di Twitter, potrei ogni volta in cui carico un video qui linkarlo su Twitter. Non lo faccio sempre perché francamente non frequentando l'ambiente di Twitter mi sembrerebbe quasi inopportuno, nessuno lo vedrebbe, nessuno mi segue veramente lì perché io non ci sono. Quindi ogni tanto ci provo, ma effettivamente non ho un riscontro, ma non per colpa degli utenti, ma perché io lì non ci sono in realtà. Mentre su Instagram se metto nemmeno il link, perché non ho abbastanza iscritti per mettere link diretti nelle storie, ma se metto la miniatura, cioè l'immagine di anteprima di un video che ho messo, vedo che la gente ci va, cioè va a cercarlo, va proprio sul mio canale senza nemmeno cliccare e basta, ma se lo va a cercare perché vuole vedere il video, perché lì ci sono molto e quindi gli utenti sono coinvolti, cioè dipende anche dalla nostra presenza, non è automatico, no? È chiaro che se io dovessi occuparmi di 18 piattaforme diverse, la mia presenza su ognuna di esse diminuirebbe, perché insomma io faccio tante storie su Instagram ogni giorno, per esempio, è la cosa principale che faccio, perché la trovo molto spontanea, più di un post, un post su un blog o una newsletter, preferisco ogni tanto mettermi lì di fronte allo schermo e parlare di quello che capita senza una pianificazione vera. Questo è il mio modo, la mia voce, il mio tono, come lo volete chiamare, ma è appunto un modo molto, un po' a caso, quindi un esperto di marketing mi picchierebbe, presumo, però è quello che ho scelto io, cioè io ho scelto di avere una voce molto spontanea, perché mi viene meglio, è la cosa che preferisco, mi piace il rapporto diretto con le persone che mi seguono e quindi non una comunicazione sterile, distante, programmata, ma più che altro quello che mi viene da condividere, ecco. Però non tutti fanno così, voi dovete scegliere la vostra, chiaramente, in base anche ai vostri scopi, a quello che volete ottenere, però il mio consiglio rimane quello di selezionare le piattaforme dove vi sentite più a vostro agio, per dire, non dovete per forza girare dei video, non dovete per forza creare un podcast, non dovete per forza avere un blog, siete liberi di fare quello che volete, quello che si adatta di più a voi, no? In fondo la forza del condividere qualcosa online è proprio nella vostra creatività, specialmente se volete essere degli scrittori. Se copiate gli altri, se fate le cose uguali a tutti gli altri, non funzionerà, perché, insomma, se ce ne sono già 8000 di quelle cose lì, uguali, identiche... Beh... Quindi, al di là dei consigli degli esperti, o anche dei miei, se vogliamo, quello che secondo me dovete tenere a mente siete voi, cioè, quello che voi avete da dare a chi vi può seguire, quello che solo voi avete da dare. E sarà difficile identificarlo, eh, perché, appunto, di solito l'atteggiamento dell'autore è quello di dire ma io che ne so, cioè, non so cosa fare, non so cosa condividere, non so nemmeno di cosa parlare, però sono sicura che tutti voi abbiate una storia e alla fine lo storytelling, come si suol dire, ma anche aziendale, si basa sempre sulla realtà, quindi è da lì che dovete pescare, pure se volete essere molto programmati e inquadrati. Quindi tenete in considerazione perché state cercando di condividere qualcosa, cosa volete da noi, cosa volete che gli altri vedano di voi, insomma, al di là, appunto, di selezionare dove ficcarlo, però, per capire cosa condividere, fatevi queste domande, cioè, perché io voglio scrivere, perché voglio fare lo scrittore, cosa mi può dare il confronto con gli altri, come mi voglio porre nei confronti degli altri, cosa voglio ricevere, no? Dunque, spero di aver risposto a degli interrogativi comuni, lo so che non sono risposte assolute, ma per fortuna, insomma, ripeto, dovete essere voi a decidere come porvi. Come sempre, vi ringrazio immensamente per avermi guardato e ci si vede al prossimo video. Ciao!